Parliamo ora dei testimoni di Geova che dopo due anni di pandemia tornano a contattare le persone nei luoghi pubblici. In Puglia ci sono più di 18.000 testimoni di Geova in più di 190 congregazioni. L'attività di evangelizzazione in presenza era stata sospesa nei luoghi pubblici nel marzo del 2020 a causa della pandemia da Covid-19, prima ancora che venissero emanate le norme restrittive. In alternativa le persone sono state contattate ugualmente attraverso lettere telefonate e altri metodi virtuali. Anche le riunioni si sono tenute su una piattaforma di videoconferenze. In tutto il mondo dal primo giugno invece le attività sono ritornate alla normalità, ad eccezione del contatto casa per casa che rimane sospeso e riprese invece l'assistenza in carcere. Siamo regolarmente presenti con gli espositori mobili, pronti ad offrire pubblicazioni bibliche gratuite a chiunque ne faccia richiesta, afferma Giuseppe Carbonara, portavoce dei testimoni di Geova per Puglia e Basilicata. E anche se non richiesto i volontari continueranno a indossare una mascherina. La decisione di tornare ad incontrare le persone nelle aree pubbliche coincide con l'invito a partecipare al prossimo congresso online dal tema Cercate la pace, l'evento che sarà suddiviso in sei appuntamenti pubblicati su jw.org nel corso di luglio ed agosto allo scopo di aiutare le persone a sviluppare pace interiore e imparare a vivere in pace con gli altri. Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito jw.org.